Salve a tutti, con questo video voglio spiegare come funziona il programma cattura immagini il numero 15 del kit della dislessia questo è un programmino strepitoso perché non ha necessità di essere installato la cartella può essere messa in una chiavetta e portarsi il programma appresso come dicevo, questo programma non ha bisogno di installazione e semplicemente basta cliccare su esecutivo ed ecco il programma partire è un programma mobile, sta davanti a qualsiasi cosa e ci permette di fare molte azioni adesso farò un esempio, apro una micro presentazione che ho già preparato molto velocemente e mi interessa mettere delle immagini di dentro allora si parla dell'Italia, dove è, chi la abita e così via quindi apro una ricerca di immagini e supponiamo che l'immagine che mi interessi sia questa ecco io la apro e da questo programmino scelgo la porzione che mi interessa per far vedere che l'Italia è in Europa semplicemente clicco, esce fuori questa finestra nella quale io posso fare un sacco di cose posso salvare, stampare, ma mi interessa solo per la presentazione quindi faccio altro che copiare, butto via il lavoro che ho fatto, non mi interessa più e la incollo dentro la mia presentazione, bella è fatta usa e getta, quindi dove è? Italia, Italia in Europa rifaccio l'operazione per spiegare come si fa vedete il programmino è sempre qua, pronto a catturare qualsiasi cosa per esempio vicino al titolo volevo mettere l'Italia ecco non so, un'Italia fisica, questa semplicemente o con lo strumento di prima lo delimito in rettangolo oppure con questo strumento qui posso delimitarne la porzione che mi interessa vedete, ci giro attorno e poi doppio clic ecco la parte che andrà nella mia immagine la copio semplicemente senza salvarla, stamparla, fare qualsiasi cosa potrei anche scriverci con il draw ma per adesso nel micro, questa micro guida mi interessa semplicemente spiegare la comodità e quindi io qui, tasto destro, incolla, ecco la mia Italia quindi la mia Italia in un attimo ha corredato questa micro presentazione la dispongo in fondo, così ecco che l'Italia mi sta davanti in un attimo ho corredato la mia presentazione di immagine quindi ho aumentato la possibilità di parlare il linguaggio contenuto in questa diapositiva non è su più solo quello scritto Faston Capture ha anche altre funzioni, questa è molto interessante quella della lente di ingrandimento che mi permette di viaggiare sulla pagina ingrandire le parti che mi interessano un video, un fermo immagine, una porzione di carta geografica una scena storica ripresa da qualche dipinto d'epoca quindi è anche uno strumento per la compensazione fa tante altre cose ma è già sufficiente così buona sperimentazione